Facilitare i canali comunicativi, riannodare il filo dei rapporti sociali, acquisire fiducia negli altri. Questi alcuni degli obiettivi che si prefigge il progetto di inclusione sociale Volontart, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero delle Politiche Sociali. Circa 600 ore di laboratori di teatro, cinema e clownerie, con le scola resche del territorio e 60 ore di laboratorio teatrale, con i detenuti della casa circondariale di Chieti effettuate, tutti in presenza e senza alcuna proroga, nonostante il lockdown e la chiusura delle scuole. Abbiamo potuto sperimentare come la possibilità di ritrovarsi, ancora sia a distanza, ancora non nella possibilità di toccarsi, però di avere una vicinanza fisica di relazione più forte. Abbiamo riscontrato come i bambini e anche i detenuti della casa circondariale di Chieti hanno colto l'occasione all'interno delle attività laboratoriali di aprirsi alla relazione emotivo-empatica, che poi è appunto l'oggetto prevalente del nostro percorso. Il doppio canale scuola-penitenziario, sul quale si è dispiegato il progetto, ha fatto emergere una realtà composita ma in grado comunque di reagire e ricostruire un tessuto sociale e comunicativo anche dopo la pandemia. Lo ritengo pregevole e lodevole questa iniziativa come ne faremo tante altre per cercare appunto di ridurre questo problema di isolamento e cercare soprattutto, come dicevo, di capire quali sono i profili che dobbiamo andare a formare cercando di estrapolare le caratteristiche di ciascun individuo per poterlo reinserire o comunque collocarlo nel mondo del lavoro.